Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Oggi voglio parlarvi di una cosa che a me particolarmente piace, è piaciuta e piacerà ancora particolarmente Ovvero il deck building, ah che bello Prima di iniziare come sempre vi invito a iscrivervi al nostro canale, vi passate in link social in descrizione Per rimanere sempre aggiornati con il mondo di Yugi, grazie mille Allora la bellezza del deck building la intendo anche ovviamente nel gioco non competitivo Perché reputo soggettivamente, potete anche non essere d'accordo Che la bellezza del deck building sia anche andare a ricercare delle cose, delle particolarità Questo va bene anche per deck competitivi e non Però delle particolarità di carte magari che servono a sostituire quelle dal costo ultra elevato Perché alla fine i deck sono un po' tutti diversi, ci sono delle liste Anche se sembrano tutto uguali che hanno ovviamente delle distinzioni Però magari nelle liste competitive ci va sempre quella stepolo d'archetipo o generica Che insomma capite bene che va messa per ovvi motivi Perché uno vuole vincere giustamente e ci mette il meglio del meglio Però c'è anche l'ambito del deck building, quello più fanfarone Ovvero il nostro, cioè ovvero il mio Il nostro perché comunque io molto spesso parlo di budget E molti giocatori che mi seguono Anche se in realtà ho visto molti che giocano competitivo E seguono comunque quello che è il mio for fun E quindi sono molto contento di questo Comunque è quella ricerca di andare a vedere la carta che meglio si confaccia All'assa del giro del mazzo Quella potrebbe sostituire quella più forte I metodi alternativi di tech Oppure andare a puntare su un deck magari un po' sconosciuto Che costa poco Però che potenzialmente ha un sacco di bella roba Che potrebbe fare veramente danni Ogni tanto io mi vedo giocare contro le mutante e delle volte mi rompe il culo Quindi Quei mazzi lì nascosti ma anche non troppo Che ogni tanto emergono e ti sfracellano Quelli sono molto interessanti Quindi andare a ricerca pure dell'extra deck Delle carte magari il Draco Perseg del Tenny Che io tanto cito perché con lui sfondi tutto Ed è bellissimo E sta da 50% Sta praticamente a niente È una cosa bellissima Ma una delle cose che più adoro È il fatto di farsi il deck appunto Come piace a noi E avere la soddisfazione Di avere il mazzo con quelle carte che abbiamo scelto Magari anche realizzato Con quelle carte anche budget Però realizzato Che ne so Io ho quei guardi nocelti con i Veiler Ultra Buconero Ultra È bellissimo Guardo questo lì ed è bellissimo Questa è una delle cose che più particolarmente mi piace Del deck building Poi vabbè Testare Tutto il resto Farsi ragionamenti Andare a cercare le carte Finalmente trovarle Finalmente attendere la ristampa Che ci permetterà di Magari Dare un boost Al deck Perché no Magari cercare di fare Combinazioni strane Perché Magari non si riesce a permettere Un determinato Core di carte Quindi tu vai a replicare Su altro Mi è successo parecchie volte Tipo ai tempi Giocavo Pick up All'Iceborn Che era Bellissimo Era bellissimo Qualcosa Stratosferico Mi piaceva un botto Come un mazzo E Veramente Tanta tanta roba La cosa brutta è che Si Fai dei mistoni Però Delle volte Non riesci a fare Uno che Sia consistente Quello si Vabbè Ovviamente Se riuscissimo a fare Mazzi sempre consistenti Sarebbe un po' la fine Perché tutti i mazzi sbroccati A rotta di collo Non sarebbe il massimo Però Anche lì potrebbe essere Intricante Come cosa Non lo so Io puoi andare a cercare le carte A aprire dei cassetti Vedere questa montagna di carte E pensare Ma questa carta Anche in uno per me Potrebbe essere utile Lo sai che Proviamo E poi magari funziona E dici Beh 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 coglioni Cioè insomma Ce l'ho ragionato bene Ce l'ho azzeccata In qualsiasi In qualsiasi modo Fai Mid rage combo Contro Lì sono più contro Quindi magari Il fare il mazzo Diventa più facile Il Sminchiarsi il cervello Perché si contro Ma devo trovare il modo Pure per partire Per secondo Perché metti che perdo il dato Cioè insomma Magari vincerò La seconda partita Perché sarò io A decidere Se inizierò Però poi Deciderà l'avversario Quindi insomma Quella è Una bella cosa Poi Con il fatto che ci sono Un sacco di carte Ora Beh Reperibili Si possono fare Tante 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 cose Io ogni tanto Riprendo sempre Quel povero Dark Magician Sempre budget Perché non ho più Perto nessuna carta Ogni tanto Lo modifico Per vedere Cosa può uscire fuori Ed è figo Perché comunque Delle cose Buone escono Perché il mazzo Cioè il core del mazzo Con circolo E il dragone Per bloccare tutto E interruzioni varie Negate Qualcosa riesce Comunque a fare E quindi Sono sempre Ben contento Poi vabbè Deck building Di altri formati Ok Poi vabbè Io gioco anche ad altri giochi Come sapete Quindi Il deck building Assoluto È qualcosa Che mi piace tantissimo E mi piace tantissimo Ovviamente Sempre con archetip Che piacciono E piacciono a me Così come Archetip Che piacciono a voi Non è che ci mettiamo a fare Liste di mazzi A caso Così Tanto per No Ovviamente Abbiamo i nostri Archetipi Per venire Magari lavoriamo su quello Magari avere Un solo deck Perché comunque C'è gente che gioca Con un solo deck Però pian piano Migliorarlo E renderlo veramente OP Perché poi Si imparano Delle Delle deck Veramente Giganti Che magari Nessuno conosce Perché può capitare Cioè può capitare Può capitare C'è magari Delle combinazioni strane Che magari Uno non si aspetta E che in realtà Puoi fare Che mi è successo Mi è capitato Di vederlo Sempre contro Perché io sono scemo Però sempre contro Però l'ho visto Quindi dicevo Minchia Buono insomma E beh Questa è la bellezza Anche del gioco Magari Delle volte Si Si perde un po' Si perdono un po' Tutte le combinazioni Perché l'opo Ti fa sette negate Random Però vabbè Non so Comunque si possono Sempre fare Comunque le carte Per riuscire A Le varie board C'è Ci sono Poi in realtà Ultimamente Io non è che Giocando Non è che mi hanno mai fatto Ultimamente Board Da cinque mostri Che negavano tutti Delle volte Tre Due Tre Quattro C'è Non è che mi facevo Lo set full Poi magari Delle volte Non c'era nessuno Che negava Un effetto Specifico Che magari Ribiccava E quindi Potevo ribaltare La cosa Cioè molto spesso Mi è capitato Di ribaltarla Più che altro Delle volte La maggior parte Ribaltarla Ma non vincere Nel senso Toglievo la board Però ripartiva E io non riuscivo A ripartire Per differenza Di forze Nei mazzi Però comunque Si riusciva a giocare Fortunatamente Quindi Quello è E niente ragazzi Questo era il mio pensiero Da condividere con voi Perché Il creare mazzi È sempre stato qualcosa Di figo Così come In me Yuki Così come In magic Così come In qualsiasi altro gioco Che giocate E quindi niente Volevo condividerlo con voi Fatemi sapere voi Cosa era pensato Ovviamente Noi come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto a tutti